Ritrovata The World 125 nuovamente su Excel, siamo tornati sull'applicazione di casa Microsoft per mostrarvi la scaletta che la mia mente ha partorito la scorsa sera. Ovviamente per chi è iscritto alla pagina Facebook ha già visto la scaletta in anteprima, quindi se siete interessati a rimanere aggiornati sulle ultime news, anticipazioni, foto, video, chi più ne metta, iscrivetevi alla pagina Facebook, è un di più che vi offro anche per magari mettere qualche commento, eccetera, eccetera. Quindi se siete interessati, vedete che pubblico abbastanza roba, cerco di rispondere anche lì alle vostre domande, se siete interessati il link come al solito è in descrizione. Torniamo comunque alla scaletta e come vedete la grande novità di questa scaletta che si chiama Settembre Oltre perché andrà avanti finché la mia forza di volontà la farà andare avanti, è l'introduzione dei giorni tematici. Vedete che ogni giorno della settimana, diviso in mattina e pomeriggio, cercherò di portarvi due video al giorno, questo è il mio grande piano, due video al giorno, non sarà facile ma ci proverò. E soprattutto la mattina, vedete che la mattina è quello che mi interessa, la mattina di ogni giorno ha il suo argomento tematico che cercherò di rispettare. Ovviamente se il venerdì, l'argomento del venerdì venisse scambiato con quello del giovedì, non vi arrabbiatelo, ve lo dirò, sarebbe sulla pagina Facebook, ma non penso ci sia scandalo. Comunque, questi sono gli argomenti tematici che ho scelto per la settimana. Giorno World War II, quindi giorno Seconda Guerra Mondiale, che potrebbe essere, come potete immaginare, qualsiasi gioco sulla Seconda Guerra Mondiale. Adesso ad esempio oggi, lunedì, stamattina è uscito Panzer Corps, gioco sulla Seconda Guerra Mondiale, eccetera, eccetera. Quindi giochi sulla Seconda Guerra Mondiale, potrebbe uscire il lunedì, anzi no, che potrebbe, usciranno il lunedì. Il martedì è il giorno del vlog o dei video random, quindi ho un gioco a caso che non so in quale categoria rientri, lo faccio uscire il martedì. Ho un vlog da mostrarvi, ve lo faccio uscire il martedì. Mercoledì sarà il giorno della rubrica retro, quindi se faremo partite a Rise of Nations, penso sarà il primo che porterò a Age of Empires, ai giochi che avete visto, usciranno il mercoledì. Giorno Total War, questa è una bella news per tutti voi, tutti gli amanti della serie Total War. Ho intenzione di portarvi almeno un video a settimana di un titolo Total War, che può essere Third Age o può essere Warhammer in questo periodo. Mi ha fatto riflettere il commento di Vincent, che lo ringrazio ancora nel commento del video di Warhammer, perché vorrebbe da me un video al giorno perché sono stato uno dei primi a portare insieme a Karati la serie Total War su YouTube. Lo ringrazio per questo complimento e quindi da questa decisione ho deciso di portarvi un episodio in modo tale che per me non sia pesante e non pensi troppo a quanto era bello Medieval e quanto fanno, diciamo, non cagare, ma quanto sono cambiati i nuovi Total War. Quindi porterò un episodio almeno alla settimana di un Total War, che può essere Third Age, che concluderemo così questa benedetta campagna, o Warhammer. Il venerdì sarà il giorno dei gestionali, quindi i gestionali possono essere Prison Architect, Rimworld, Factorio, Live is Feudal, Forest Village. Quel tipo di giochi usciranno il venerdì mattina, sabato e domenica, sia mattina che pomeriggio. Surprise, madafuck! Perché? Me li tengo per me. C'è un gioco, il gioco retro del mercoledì vi è piaciuto in particolar modo, ho ricevuto commenti, commenti, tantissimi commenti che lo volete subito. Ve lo faccio uscire il sabato o la domenica, o la mattina o il pomeriggio. Adesso vediamo bene quando, comunque abbiamo due video, magari il weekend uscirà solo un video. Per questo motivo è anche importante che commentiate i video e magari anche li spolliciate, come si dice in gergo youtubiano per i big, perché in base ai vostri commenti anche capirò cosa portare il sabato e la domenica. Se mi avete detto, come ho fatto l'esempio, il gioco retro della settimana vi è piaciuto tantissimo, volete il secondo episodio, io cerco di portarlo già nel fine settimana e non il mercoledì successivo. Il pomeriggio, il pomeriggio di ogni giorno, cosa vuol dire questo? Serie 1, serie principale 1, serie principale 2, serie principale 1, serie principale 2, serie principale 1. Allora io ho immaginato che nel mio canale ci saranno attive, attive come serie principali, massimo due giochi, che possono essere come è scritto qua sotto, Europa Universalis, Earth of Fire, un Total War, se ho annuncio, cioè se dico fare una campagna su un Total War e la porteremo tutti i giorni, allora lì sarà una serie principale, se no i classici giochi paradox o comunque giochi che richiedono un'attenzione maggiore, cioè giochi che durano tantissimo tempo, per farvi capire, quindi un gioco paradox come dura tre mesi a minimo per me, per il mio canale, quindi. E ho intenzione di alternare un episodio al giorno, cioè di alternare, di mettere a giorni alterni un episodio di queste serie, quindi, ad esempio, lunedì Earth of Iron, il martedì Europa Universalis, mercoledì Earth of Iron, il giovedì Europa Universalis. Penso di essermi ingarbugliato, comunque avete capito il senso, 1, 1, 1, 1, 1, 1, una volta una volta l'altra. Se ci sarà solo una serie principale, ovviamente, tutta la serie principale avrà un solo giorno, quindi un video al giorno di quella serie. Non è detto che il sabato e la domenica escano le serie principali, come ho detto, se vi è piaciuto tantissimo il gioco World War II del lunedì, ve lo posso portare il sabato e la domenica. Come vi ho detto, il sabato e la domenica non è detto che escano due video, me li posso anche prendere per registrare, quindi faccio uscire solo un video, o me li prendo semplicemente perché il weekend sono via e quindi esce solo un video. Questa è la mia idea. Fatemi sapere nei commenti cosa vi... se vi sembra una buona idea. A me sembra un'ottima idea, soprattutto per fare varietà sul canale e non portarvi tutti i giorni lo stesso video, che magari può anche annoiare alcuni, visto che c'è comunque una platea abbastanza eterogenea sul mio canale, di gente che mi piace il Total War, gente che vuole solo Europa Universale, gente che vorrebbe che portassi altri giochi. Per questo modo di cercare di accontentare un po' tutti. Ah, mi sono dimenticato, non lo stavo dimenticando, che poi Tommaso mi incuria se non lo dico. Per le stream e le live, io non ho una scaletta, non riesco a averci una scaletta per le stream e le live. Una sera mi sento voglioso di fare una live e non di registrare, faccio la live. Come fate a sapere se sono in live? Il gruppo steam, ragazzi. Il gruppo steam, mi raccomando, non ve lo sto a far mostrare perché non c'è manco steam aperto. Lo faccio partire un secondo. Il gruppo steam è fondamentale per le live perché le notifiche di steam funzionano molto bene se siete online. Quindi se siete online o state giocando su steam, nel momento in cui io faccio... Adesso andiamo sul mio profilo, se riesco a andarci. Andiamo sul mio profilo. TheWorld 125 canale stream. Posso anche invitare, comunque potete iscrivervi, è libero, non è a numero chiuso. Io posso fare gli annunci, vedete che ci sono eventi, adesso ci sono gli eventi passati, comunque se vado su eventi. Vedete che apparino le notifiche, vi appare tipo quando un amico inizia a giocare a un gioco. E vi consiglio di iscrivervi perché vi arriva la notifica e sapete perfettamente quando io sono in live e nel momento in cui io entro in live. Solitamente io mando la notifica e ci voglio in 10 minuti nel tempo che io metto le canzoni, mi organizzo tutto. Quindi da quando io mando la notifica in 10 minuti sono in live. Cercherò di rimettere di nuovo anche sulla pagina Facebook. Quindi cercherò di rimettere di nuovo anche il post che sono in live. E nulla, anche il link per il gruppo steam lo trovate in descrizione, mi raccomando. Se siete interessati alle live e mi chiedete come faccio a sapere quando fai le live. Ecco, questo è un buon modo per sapere quando faccio le live. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa idea. Penso di aver detto tutto. Penso di aver detto tutto. I giochi sono gli stessi che vi avevo annunciato nel video precedente. Quindi se volete sapere quali giochi arriveranno sul canale andate a rivedervi il video precedente con i programmi nel periodo invernale. Penso di aver detto tutto. Da The Wall è tutto. Un saluto e alla prossima. Ciao ciao! Un saluto e alla prossima.